Noi siamo onorati come Acli di Arezzo di poter ospitare in questo evento culturale il dottor Giuseppe Mendicino che ha scritto una biografia estremamente interessante su uno scrittore che io reputo veramente eccezionale per la nostra storia nel territorio del Novecento, Mario Rigoni Sterna. Per questo, attraverso i valori che comunque ha trasmesso questo scrittore, che sono molto vicini anche ai nostri, sia come associazione ma anche come cultura democratica, è per noi veramente fondamentale poter trasmettere anche attraverso queste iniziative la storia di questo grande scrittore. Guarda, ci tengo a tenere il punto di tre temi di attualità di Mario Rigoni Sterna. Uno sono la passione e la conoscenza della natura in un momento in cui i cambiamenti climatici stanno seguendo una china davvero inquietante e pericolosa. Sono importanti i suoi riferimenti di conoscenza, di attenzione e di passione nella difesa della natura. Soprattutto ho visto i dati ISPRA sul consumo di suolo del nostro paese in alcune regioni, Veneto, Lombardia, Campania, è spaventoso. E poi davvero l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Lui era un uomo che la natura la conosceva e la difendeva. L'altro tema è l'etica civile, cioè i suoi valori di dignità, di serietà, di tolleranza, di passione per la libertà, unità, senso di responsabilità. Sono attualissimi. Il senso della memoria, ricordare le tragedie del Novecento, altrimenti poi si ripetono. Bisogna conoscerla la storia perché se no si ripete e possono ripetersi cose davvero terribili. Facevano l'esempio della civile Europa in Jugoslavia, quello che è successo dopo la Seconda Guerra, nessuno immaginava che succedesse quelle tragedie. E poi il terzo tema è la scrittura chiara, pulita, veloce, la stessa che amava tanto Italo Calvino. Non a caso il primo grande critico letterario che ha capito e apprezzato Rigoni Stern. Nel suo ultimo libro, Lezioni americane, ha proprio teorizzato una scrittura chiara, pulita, veloce, concreta, come era quella di Mario Igoni Stern e del suo amico Primo Levi.